Allora a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, sono Roguey01 e oggi giochiamo dopo tantissimo tempo su Minecraft nel nostro mondo vanilla Vi ricordo che domani 7 ottobre uscirà Far Cry 6 e ovviamente davvero fan della saga io porterò qui su Youtube tutta la serie Quindi se volete accedi alla campanellina per non perdere questa grandissima nuova serie e buona visione Ok so che è passato tanto tempo ma non è che non ho giocato proprio nel nostro mondo perché finalmente è uscito il nuovo snapshot della 1.18 Che posso aggiornare il mio mondo e infatti per chi si ricorda io non potevo aggiornare nella 1.17 perché io già ho fatto L'avevo smanettato nel codice e potevo avere già le caverne nuove Però ahimè quelle di Alamojack lo tolsero quella Fissure e adesso l'hanno rimessa per fortuna E si può fare in tutti i mondi, si può, possono avere, se scarichi il nuovo snapshot che dovrebbe essere il 29V39A Si possono avere le caverne nuove, le montagne nuove, ho fatto già il backup dei biomi, dei chunk che non mi servivano Quindi sicuramente avremo le nuove montagne vicino Qui ho avuto un nuovo amico, un enderman che ho chiamato Pippo Spero che non disponi perché l'abbia visto però sta intrappolata nella barca quindi non morirà E ho fatto un nuovo, feci un nuovo achievement, advancement come si chiama Che è quello di colpire 5 entità, no 5 mob diversi ovviamente con un colpo di freccia Ho provato 7000 volte ma poi ho fatto la maniera classica cioè butti la pozione di veleno Quindi il mob di veleno ai mob neutrali, no mob gattie quindi rimangono a mezzo cuore E poi con la crossbow, con la balesta si colpisce E dovrebbe essere facile se non sei stupido con me che ci ho provato due serate di fila Bam 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 ma non ci riuscivo perché alla fine colpivo sempre la barca perché si l'ho intrappolata nella barca E oggi ricreeremo la nostra zona di enchanting Perché questa, tutta questa zona sarà per loro Più uno perché non so il motivo ma ancora sta lì Segregato che sarà credo quello di Mending No quello da uno smeraldo ma quello fasulo Quello da 16 smeraldi per un libro di Mending E qui ci dovrebbero essere tutte le cose che ci serviranno Quindi cominciamo a mettere le basi cioè questi tre oggetti che senza di essi non ha senso Dove è qui? Ok La zona di chat Che poi come solito si mettono le bookshelf Credo che le devo mettere uno in avanti Vediamo subito Metti così Era Toiti Così Eh sì Eh questi daranno un botto di fastidio però Che ci vuoi fare? Qua ho messo alcune cose Ah mi sono fatto i nuovi leggings Però non mi ricordo che cosa Ah avevo messo Blast Protection E avevo messo Thorns Sì no avevo messo soltanto Blast Protection Questi ognuna ha il proprio libro Ha il proprio leggio E questo L'ho maxato perché Ho fatto le due mappe Quindi nei prossimi episodi si potrebbe fare un video Esplorazione in cui andiamo sia Alla mansion e un altro Al Lo c'è il tempio oceanico Quello carino e coccoloso Qui Utilizzeremo la stessa tecnica che abbiamo usato qui Nello scorso episodio ma Con Un cambiamento Semplicissimo Poiché siamo in una libreria Sembra brutto Questo Infatti Modifichiamo subito E le dobbiamo mettere No qui no Questo Così Così sembra che Sia una libreria Senza Libri E questa cosa Come abbiamo fatto Nello scorso episodio Una cosa sì Una cosa no Dobbiamo usare lo shift E questo Come sempre L'abbiamo messo male E questa cosa Ovviamente La dobbiamo fare Ehm Non ho Ok facciamo col piccone Sia da questo lato Che dall'altro Quindi Così Così Tic Tac E invece Qui Dobbiamo mettere Queste Così Della cartografia Così Lui lavora Non si arrabbia Ci lascia i nostri I nostri Sconti E Non ci dice niente Lui lavora Dorme Ma Non mangia Perché Sono Sfruttati Fino a quando Non moriranno E Ovviamente Youtube Sto scherzando Puoi fare così Così Ehm Facciamo finta Che non ho Non ho Failato E dovrebbe essere Così Così Eppure Speculato E questo è soltanto La base Poi Cominciamo a fare Delle cose carine Però prima Visto che stiamo A casa La nostra Super Mega Maggiore Della morte Che è molto Figa Di quella Vanilla Quella Dove stanno I Vendicator E Amici Belli Che ancora Non è terminata Perché Non abbiamo Un tetto Abbiamo fatto Stiamo facendo Step per step Qui Ah E sto Facendo Sto Cominciando A fare Un altro Accima Cioè Quello di Prendere I Dodici Undici Gatti Noi Per adesso Ne abbiamo Nove Ci manca Il gatto nero Che si trova Nelle Nelle paludi Nella casa Della strega E un altro Se non mi svolgo Si chiama Jolly Quindi Futuro prossimo Andremo alla ricerca Di anche Dei Serve Anche De Gio Da qualche parte E non l'ho messo Sì Quindi andremo Anche alla ricerca Degli ultimi Due gatti Che ci serviranno Per fare Un altro Advancement E abbiamo fatto Altre Con l'aggiornamento Ci hanno dato Altre Achievement Advancement Come Quello di catturare L'Axolotl Anche se Già l'abbiamo Fatto Poi Quali Quello Del canocchiale Guarda Guarda Un pappagall Guarda Un altro animale Che non mi ricordo Ah Il ghast Poi Cos'è Pure questi Cos'è Che faremo In un futuro Successivo E poi Cominciamo A Utilizzare Queste Cose La Grindstorm Che ci servirà Per quando Non ci servirà Un achievement Quindi Utilizziamo Firetick Ci dà i livelli Poi 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 Delle Lanterne Misero No Perché Non c'è Abbastanza Luce Se non mi Sbaglio Quindi le Mettiamo Una qui Una qui Una qui Questa qui E Un'altra Qui Nei posti In cui Non c'è La cosa Mettiamo La canne Di Bamboo Uno Due Prima i vasetti E poi la canne Di bamboo Non so perché Ma mi piace Un bot Non abbiamo Abbastanza Bamboo Va bene Un'altra cosa Che Per Far capire Che stiamo Un paesaggio Mistico Ehm Perché stiamo Qui si fa Qui avviene La magia Mettiamo Ogni tanto Un po' Di lampade Ok E anche E dentro Così Vedete che Lavorano I nostri Schiavi I nostri Amici Villi Ci volevo Dire Qui Metti Un'altra Cosa Qui Per fortuna Ci aiuta Qui il gioco La nostra Liberia Ehm Uno Più Basso Mettiamo Questo E sembrano Quei spiritei Di fuoco Come Littwick Il pokemon Ehm Poi le accenderemo Ovviamente Le Le candele Mettiamo Anche uno specchio Qui Visto che stiamo Dove è il mio Filet of steel L'ho Messo Qui nella Gest Perché non Mi ricordo Affatto No Possiamo Utilizzare anche Questo Come Calamaio Qui Mettere L'inchiostro E scrivere Ecco perché Avevamo Così pochi Basetti Perché Oppure Una Candela Spenta Qui c'è Qui ci sono Le candele Accese Qui la Candela Spenta Senza Cosa Io devo andare A prendere L'acciarino Così finiamo Anche questa Stanza Perché la volevo fare Da un botto di tempo Ma Dopo Aver fatto il video Quei due video Super mega lunghi Che Ho dovuto Tra ieri E altrimenti Non per l'idea Perché l'idea Ce l'ho Dal 15 18 Ma Perché dove Ho registrato Tutti quei Giochi Tutti quei Clip Non è che Io vada Alla ricerca Delle clip Su youtube Di che cosa Si parla No no L'ho registrato Tutti io Ho fatto un culo Così perché Giocarti Quei giochi In pochissimo Tempo Anche perché Non è che io Li giocavo Soltato per fare Le clip No L'ho platinati L'ho platinati Tutti Forse I giochi Che ho In quelle clip E tu dici Ti devi sbrigare Di Fare uscire il video No Devo platinare il gioco O non mi accontento E infatti Ci è voluto Tantissimo tempo Per Fare uscire il gioco L'ho accese tutto E no Questo no E questa Dovrebbe essere La nostra Futura Zona D'inchant Bello Quest'idea Mi piacque Un botto Quando l'ho fatta La prima volta E Piace Ancora adesso Forse devo aggiungere Ancora più candele Ma per adesso Non ne abbiamo Però la farm Che poi le candele Ho scoperto Che sono Easy da fare E la cosa più facile Del mondo Perché bisogna Mettere Una string Un comb E la fa E Le nostre arpetze Ce ne danno tre Ogni volta Che è pieno L'alveare Quindi Easy Ovunque Questo è Un grande ritorno Di Minecraft Vi ricordo Che Se questo video Uscirà Domani Cioè mercoledì Giovedì Esce Far Cry 6 Quindi Accendete la campanella Subito Perché Ovviamente L'ho porto Già E' acquistato Già Fatto le cose nuove Carine coccolose Poi lo vedrete E Se questo video Vi sia piaciuto Se questa zona di enchant Vi sia piaciuto Vi sia piaciuta Mettete mi piace Condividetelo Accedete a campanellare Per non perdere altri video E Bella Per non perdere tutti Per non perdere altri video Per non perdere altri video